Buonasera, 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 tutto bene? Buonasera, buonasera, buonasera. Io mi chiamo Antonia, Marco. Saluta, tutto bene? Saluta, buonasera, 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 salutate. Ciao dottore, saluta Antonio, buonasera, salutate, buonasera, 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 tutto bene? Salutate, saluta Antonio, buonasera, 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 tutto bene? Sono qui con Maria Grazia, saluta Maria Grazia, saluta, salutate. Buonasera, 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 buonasera. tutto bene saluta buonasera tutto bene salutate buonasera tutto bene saluta buonasera 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 tutto bene salutate buonasera buonasera tutto bene buonasera salutate saluta saluta Antonio saluta Antonio buonasera buonasera tutto bene salutate ciao saluta Antonio buonasera 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 buonasera